Vi siete mai trovati di fronte a un evento cosmico così straordinario da cambiare il corso della vostra vita? Immaginate un mondo trasformato dalle profezie di dolore Scannon e potenti energie cosmiche. Il 20 maggio 2024, un eccezionale allineamento planetario di Giove, Saturno, Marte e Venere sorprenderà gli astrologi e prometterà straordinari cambiamenti nelle nostre vite. In questo video, scopriremo come queste forze influenzeranno relazioni, carriere e crescita spirituale. Restate con noi per scoprire come prepararvi a queste potenti energie e trasformare la vostra esistenza in modi sorprendenti. Oggi sei la benvenuta o il benvenuto su Ricarica Mentale. Iscriviti al canale e clicca sulla campanella delle notifiche per altri video incredibili. Il 20 maggio 2024 segnerà una data storica in astrologia con un raro allineamento di Giove, Saturno, Marte e Venere. Questa configurazione, unica e non vista da secoli, porterà un'ondata di energia cosmica di vasta portata. Questo evento cosmico rappresenterà un vero e proprio reset, permettendoci di riallinearci con i nostri veri scopi. Sarà cruciale rimanere aperti e ricettivi per sfruttare pienamente queste potenti energie. Questo evento cosmico porterà un cambiamento nelle nostre energie personali. Ci sentiremo più motivati e pronti a prendere decisioni significative, avviando nuovi progetti o riprendendo quelli sospesi. L'energia di Giove e Marte ci spingerà all'azione, mentre Saturno garantirà disciplina e costanza nel lavoro. Venere rafforzerà le relazioni, spingendoci a riconnetterci con vecchi amici e a consolidare legami familiari, cercando armonia e amore. Saturno ci sfiderà ad affrontare paure e insicurezze, promuovendo introspezione e crescita personale, un processo che, sebbene arduo, accrescerà la nostra consapevolezza. L'allineamento influenzerà anche i rapporti interpersonali. Venere favorirà connessioni più intime e significative, mentre le energie di Marte e Saturno ci guideranno in scelte difficili, liberandoci da relazioni non più congruenti e favorendo nuovi legami autentici e reciprocamente arricchenti. Queste dinamiche non solo modelleranno le relazioni personali, ma anche la sfera professionale. Giove e Marte ci inciteranno a inseguire i nostri sogni con determinazione, spingendoci verso rischi calcolati e nuove opportunità. Saturno ci ricorderà l'importanza della perseveranza, essenziale per costruire una base solida per il futuro e per decisioni che influenzeranno duraturamente le nostre carriere. Infine, Venere ci orienterà verso una maggiore soddisfazione nel lavoro, incentivandoci a perseguire carriere allineate con i nostri valori e passioni, e a trovare un equilibrio tra vita professionale e personale. Questo allineamento ci guiderà verso un successo più autentico e realizzatore. L'allineamento planetario del 20 maggio 2024 avrà un effetto potente anche sulla nostra pratica spirituale. È il momento ideale per approfondire la connessione con il Divino e esplorare nuove dimensioni della spiritualità. Le energie di Giove e Venere espanderanno la nostra consapevolezza, portando pace e armonia interiore. Potremmo sentirci ispirati a praticare meditazione, yoga o altre discipline spirituali per sintonizzarci con le energie cosmiche. Le tecniche di meditazione saranno particolarmente potenti, permettendoci di ricevere intuizioni e messaggi dalle nostre guide spirituali. Questo è anche un momento di guarigione e trasformazione. Le energie di Marte e Saturno aiuteranno a lavorare su vecchie ferite e a liberarci dai blocchi della nostra energia vitale. Potremmo sperimentare profonde guarigioni e risvegli spirituali, portandoci a una maggiore consapevolezza di noi stessi e del nostro percorso. Una tecnica efficace è la meditazione del respiro consapevole, che ci aiuta a rimanere presenti e centrati. Sedersi in un luogo tranquillo, chiudere gli occhi e concentrarsi sul respiro può connetterci con il nostro sé interiore, calmando e rigenerando la nostra energia. Un'altra tecnica potente è la meditazione guidata, che utilizza visualizzazioni per esplorare dimensioni spirituali e ricevere supporto dalle nostre guide. Immaginare di viaggiare in un luogo sacro e incontrare gli spiriti guida può offrire saggezza e supporto per il nostro cammino. La meditazione dei chakra è utile per bilanciare e armonizzare le nostre energie. Concentrarsi su ciascun chakra, visualizzandone i colori e purificandoli, può liberare blocchi energetici e rafforzare il nostro sistema energetico. Questa pratica ci permette di sintonizzarci con le energie cosmiche e di accogliere pienamente le trasformazioni in corso. L'allineamento planetario del 20 maggio 2024 non solo toccherà la nostra vita quotidiana, ma influenzerà profondamente anche il nostro karma e destino. Questo evento cosmico farà emergere questioni karmiche irrisolte, permettendoci di affrontare e risolvere antichi debiti del karma. Potremmo rivivere situazioni ricorrenti, che ci offriranno l'opportunità di apprendere lezioni vitali e interrompere cicli negativi che ci hanno limitato. Queste potenti energie ci aiuteranno a comprendere meglio il nostro percorso di vita e il nostro scopo esistenziale. Sarà come se un velo fosse rimosso, svelandoci le verità più profonde del nostro essere. Questo allineamento sarà un'occasione per riallinearci con il nostro destino e percorrere la via delineata dall'universo. Inoltre, potremmo sentirci attratti da pratiche quali la regressione a vite passate, che ci aiuteranno a esplorare i nostri legami karmici e a capire meglio le sfide attuali. Le sessioni di regressione potranno rivelare dettagli significativi delle nostre vite precedenti e il loro impatto sulla nostra realtà attuale. Questo sarà un periodo di intensa guarigione e liberazione, in cui avremo l'opportunità di lasciare andare vecchi traumi e blocchi vibrazionali. Durante l'allineamento planetario, i sogni diverranno una fonte preziosa di informazioni e guida. Riveleranno messaggi dal subconscio e dalle guide spirituali, aiutandoci a comprendere meglio emozioni e percorso di vita. È fondamentale tenere un diario dei sogni, annotando immediatamente dopo il risveglio dettagli, simboli ed emozioni. Questo processo ci svelerà significati nascosti e intuizioni preziose, offrendo soluzioni creative e aiutandoci a comprendere noi stessi. I sogni lucidi, in cui siamo consapevoli di sognare, ci permetteranno di esplorare il subconscio, affrontare paure e sperimentare la realtà in modi innovativi. Pratiche come il controllo della realtà e la meditazione prima di dormire potranno incrementare la frequenza di questi sogni. I sogni di questo periodo saranno vividi e simbolici, potremmo incontrare figure archetipiche o animali totemici che offrono guida. L'interpretazione dei sogni, con l'ausilio di libri, terapeuti o la nostra intuizione, ci aiuterà a navigare il nostro viaggio spirituale. Le nostre guide spirituali e gli angeli saranno attivi, comunicando tramite intuizioni, sensazioni fisiche o visioni. È essenziale essere attenti ai segni e alle sincronicità. Utilizzare la meditazione e la preghiera ci connetterà ulteriormente con queste guide. Chiedere la loro assistenza e esprimere le nostre intenzioni porterà risposte tramite sogni o sincronicità. Lavorare con oracoli o carte angeliche può anche offrire messaggi chiari e diretti, fornendo intuizioni giornaliere preziose. Questo periodo rafforzerà la nostra connessione spirituale e la ricezione di messaggi divini. Le guide spirituali ci supporteranno nelle trasformazioni in atto. E rimanere aperti a questi messaggi ci permetterà di ricevere la guida necessaria per il nostro cammino. L'allineamento planetario del 20 maggio 2024 ci offrirà un'opportunità unica di connessione con le nostre vite passate, permettendoci di esplorare i legami karmici e di capire come le esperienze pregresse influenzino il presente. Potremmo scoprire che paure, talenti o relazioni hanno radici in vite precedenti. La regressione alle vite passate, pratica potente di introspezione, ci permette di viaggiare nel tempo e rivivere esperienze di altre incarnazioni. Durante queste sessioni, potremmo apprendere chi eravamo e quali lezioni dovevamo imparare, aiutandoci a comprendere e risolvere questioni karmiche attuali. Inoltre, tali connessioni possono rivelare talenti e abilità sviluppati in passato, come predisposizioni artistiche o capacità di guarigione, risvegliando doni utili per arricchire la nostra vita odierna e supportare gli altri. Le esperienze passate possono anche illuminare le nostre relazioni significative, facendoci riconoscere anime gemelle o compagni con cui abbiamo condiviso molte vite. Queste connessioni profonde aiutano a capire meglio il significato delle relazioni attuali e a lavorare su dinamiche radicate nel tempo. L'allineamento planetario del 20 maggio 2024 influenzerà ogni segno zodiacale in modo unico, toccando vari aspetti della vita personale e professionale. Ecco le previsioni per ciascun segno. Ariete, energia e determinazione in arrivo. Sarai motivato a perseguire nuovi obiettivi e a prendere iniziative coraggiose. Mantieni l'equilibrio per evitare l'impulsività. Ora il toro. Mantieni l'attenzione su finanze e stabilità. È il momento ideale per investimenti saggi e per rafforzare la sicurezza economica. Le relazioni familiari saranno particolarmente importanti. Gemelli. Opportunità di espandere la rete sociale e comunicare con chiarezza. Potresti trovare nuove amicizie o collaborazioni professionali. Favorito l'apprendimento e l'insegnamento. Cancro. Introspezione e cura delle relazioni familiari. Potresti migliorare l'ambiente domestico e creare sicurezza emotiva. Leone. Rifletterai sulla carriera e sulle ambizioni. Sarai determinato a perseguire i tuoi sogni e a fare passi significativi verso il successo. Ascolta i consigli dei mentori. Vergine. Esplora nuove conoscenze e orizzonti. Potresti essere attratto da viaggi o studi che arricchiranno la mente e lo spirito. Sarà un periodo di crescita personale e spirituale. Bilancia. Lavora sulle relazioni intime e sulle dinamiche di potere. Risolvi i conflitti e stabilisci un equilibrio armonioso con il partner. La trasformazione personale sarà centrale. Scorpione. Cambiamenti significativi nella vita professionale e nelle ambizioni. Sarai motivato a fare grandi progressi e a prendere decisioni coraggiose. Rimani flessibile di fronte alle sfide. Sagittario. Farai bene a pensare alla tua salute e il tuo benessere. Adotta nuove abitudini salutari e prenditi cura di corpo e mente. Le relazioni lavorative saranno particolarmente importanti. Capricorno. Influenzerà creatività e passioni. Esprimi te stesso attraverso l'arte o altre forme creative. Sarà un periodo di gioia e riflessione sulle relazioni amorose. Acquario. Rifletterai sulla casa e sulle radici familiari. Sarà un momento di introspezione e connessione con il passato. Potresti lavorare su progetti domestici o risolvere questioni familiari. Pesci. Espandi la mente e esplora nuove idee. Sarai attratto dalla conoscenza spirituale e dalla saggezza interiore. Le comunicazioni saranno importanti, trovando nuove vie per esprimerti. Prepararsi per l'allineamento del 20 maggio 2024 implica pratiche spirituali, introspezione e cura personale. È cruciale creare uno spazio sacro per meditare, riflettere e accogliere le energie cosmiche. Pulisci e purifica il tuo spazio personale usando incenso, candele o cristalli per creare un ambiente armonioso. La pulizia energetica rimuove le vecchie energie e apre a quelle nuove. La meditazione quotidiana è fondamentale per mantenere l'equilibrio interiore. Dedica tempo ogni giorno alla meditazione silenziosa e alla connessione con il tuo sé interiore, per rimanere centrato e ricevere intuizioni preziose. Anche nutrizione e benessere fisico sono essenziali. Mangia cibi nutrienti e mantieni un'attività fisica regolare per affrontare le energie cosmiche con forza e vitalità. Ricorda, il corpo è il tempio dell'anima e curarlo è vitale per il benessere spirituale. Infine, tieni un diario delle tue esperienze, intuizioni e sogni. Questo strumento di riflessione e crescita personale ti aiuterà a monitorare il tuo progresso e a comprendere le trasformazioni in atto nella tua vita. L'allineamento planetario del 20 maggio 2024 segnerà un periodo di profonda trasformazione. Le energie cosmiche ci spingeranno a introspezioni, affrontando aspetti della nostra vita finora evitati. Questo processo, pur difficile, sarà liberatorio e rafforzerà la nostra consapevolezza. Si noteranno cambiamenti significativi in pensieri, emozioni e comportamenti. Ci sentiremo più vicini al nostro vero sé, riconoscendo autentiche passioni e facendo scelte che rispecchiano la nostra essenza. Durante questo periodo, momenti di chiarezza e illuminazione potrebbero svelare risposte a domande che da tempo ci tormentano, portando a una più profonda comprensione della nostra vita e scopo. Queste intuizioni ci libereranno da vecchi schemi, facendo spazio a nuove possibilità. Ad esempio, Maria, che ha lottato con insicurezza e paura del cambiamento, ha scoperto una passione per l'arte e si è iscritta a un corso di pittura, trasformando radicalmente la sua vita durante l'allineamento. In questo periodo, molti potrebbero vivere guarigioni miracolose. Le intense energie cosmiche possono portare a risoluzioni improvvise di problemi di salute e a profonde guarigioni emotive, cambiando positivamente ogni aspetto della vita. Le guarigioni variano da miglioramenti fisici, come la scomparsa di malattie croniche, a superamenti di traumi e paure, ricordandoci il potere dell'energia universale e la nostra capacità di cocreare la realtà con le forze divine. Un caso emblematico è quello di Luca, che ha lottato per anni con una malattia cronica. Durante una meditazione profonda in un periodo cosmico simile a quello di questi giorni, ha avvertito un'ondata di calore e luce che lo attraversava, portando a un netto miglioramento dei sintomi e, con il tempo, a una completa guarigione. Questa esperienza ha trasformato la sua vita, rafforzando la sua fede e spingendolo a condividere il suo percorso con altri. Partecipare a rituali e cerimonie durante l'allineamento planetario del 20 maggio 2024 può intensificare la nostra connessione con le energie cosmiche e celebrare questo evento unico. Questi rituali, personalizzabili secondo le proprie credenze e pratiche spirituali, possono spaziare da meditazioni individuali a cerimonie di gruppo. Un rituale efficace potrebbe essere la creazione di un altare dedicato all'allineamento, includendo elementi simbolici dei quattro pianeti coinvolti, candele per Marte, cristalli per Giove, fiori per Venere e simboli di disciplina per Saturno. Accendere una candela e meditare o pregare quotidianamente davanti all'altare può aiutarci a sintonizzarci con queste potenti energie. Le cerimonie di gruppo, che possono includere meditazioni guidate, canti e danze, uniscono le persone sotto un comune intento spirituale. Questi incontri non solo amplificano l'energia collettiva, ma creano anche un profondo senso di comunità e connessione. Tali momenti condivisi possono trasformarci profondamente, rafforzando il nostro senso di appartenenza e supporto reciproco. Guardando al futuro, è evidente che l'allineamento planetario del 20 maggio 2024 segnerà un periodo di trasformazione cruciale. Le energie in arrivo ci prepareranno a un nuovo capitolo della nostra evoluzione spirituale e personale. Sarà essenziale continuare a coltivare la nostra pratica spirituale con una mente aperta e un cuore compassionevole. Prepararsi a questo evento significa anche essere pronti a lasciare andare ciò che non ci serve più, come vecchi schemi di pensiero, relazioni tossiche e abitudini dannose. Liberarci di questi fardelli ci permetterà di accogliere le nuove energie con leggerezza e apertura. Infine, mantenere i legami con una comunità di persone che condividono i nostri valori e visioni sarà fondamentale. Condividere esperienze, intuizioni e supporto reciproco ci aiuterà a superare queste trasformazioni con più fiducia e gioia. Insieme, possiamo costruire un mondo più amorevole, armonioso e consapevole. Grazie per averci seguito in questo viaggio attraverso le incredibili energie del 20 maggio 2024. Speriamo che le informazioni condivise ti abbiano ispirato e preparato a questi grandi cambiamenti. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e condividilo con chi può trarne beneficio. Non dimenticarti di iscriverti al nostro canale e di attivare la campanella per non perdere i nostri prossimi contenuti. Per approfondimenti e accesso a materiali esclusivi, segui link nella descrizione. Il tuo supporto è essenziale per continuare a offrirvi contenuti di qualità. Grazie ancora e ricorda, il potere delle stelle è dentro di te. Continua a esplorare, crescere e connetterti con l'universo. Grazie di cuore, da ricarica mentale.